Buonasera e ben ritrovati con Decoder. Questa sera ci vogliamo occupare del nostro territorio e lo faremo innanzitutto sentendo il presidente provinciale di ACI ed ex presidente della provincia di Bergamo Valerio Bettoni. Ovviamente si parlerà anche di tematiche legate al mondo delle automobili. E poi faremo il punto con il consigliere regionale del Partito Democratico Jacopo Scandella e infine ci occuperemo di una pubblicazione, un libro dal titolo Storie di vita quasi ordinaria, scritto da Sergio Tagliaferri con al centro la figura del nonno Giuseppe. Ma partiamo dall'intervista al presidente dell'ACI provinciale di Bergamo ed ex presidente della provincia di Bergamo Valerio Bettoni. Valerio Bettoni come presidente ACI innanzitutto qual è il suo bilancio sulle 2020 e le sue prospettive sul 2021? Devo dire che noi stiamo aumentando di numero, siamo circa 24 mila iscritti, abbiamo avuto delle grandi difficoltà nel mese di marzo, aprile e parte di maggio nel 2020 ma abbiamo perso circa 2 mila iscritti, li abbiamo più o meno recuperati, stiamo in crescita insomma, anche dal punto di vista del bilancio, il bilancio dell'ACI sta crescendo. Devo dire che abbiamo una grande affluenza perché hanno trovato negli uffici dell'ACI grande professionalità e direi grande gentilezza. che è sempre una cosa estremamente importante, conoscendo tanta gente sul territorio bergamasco, spesso e volentieri i mari quando mi incontri mi dicono sono stato all'ACI, complimenti perché avete grande professionale personale e questo direi che è una cosa estremamente positiva. Devo dire che stiamo pagando i debiti che abbiamo trovato, erano 2 milioni e più, devo dire che l'attività è aumentata dell'oltre il 20, quasi il 30% devo dire che le cose stanno andando bene, per cui tu confer, perché o no, devo dire che l'attività è all'ACI, cresce, siamo il terzo ACI nel nord Italia che vuol dire dalla Piemonte, Lombardia, Veneto, tutti, Torino, Milano, Bergo, Torino ne ha 46 mila, Milano ne ha 40 mila, Bergo ne ha 26 mila calcolando 24 mila, calcolando la popolazione devo dire che, cioè cosa voglio dire, vuol dire che è un ACI che lavora l'anno scorso, nel 2020, non siamo riusciti a fare la nostra manifestazione del rally e altre iniziative nello stesso tempo però abbiamo avuto la possibilità di ospitare l'ultima prova di campionato nel mondo ed è sulle strade bergamasche, è deciso il mondiale perché quando a Bergamo, prima di Bergamo, il test al mondiale era un inglese alla fine del rally è diventato un francese, cioè da tutti è stato indicato come un rally molto bene organizzato devo dire che c'è un grande gruppo che lavora, capitanati in particolare da Michele Gregis, l'escapione italiano abbiamo un gruppo di gente che viene chiamato spessissimo a volentieri dove si organizza il mondiale in Sardegna e non, devo dire che sono molto molto contento perché a Bergamo la voglia di lavorare, di fare, c'è il volontariato c'è e ciò che stiamo facendo facciamo da volontari in particolare dico anche esattamente cosa prendo io a fare il Presidente visto che lo faccio a tempo pieno vado in ufficio al mattino, vado a casa a pranzo, io prendo 6.500 euro all'anno, lordi per cui voglio dire, lavoriamo bene, ho una bella struttura, efficiente, per cui sono molto molto contento perché adesso abbiamo aperto discorso anche su altri temi, d'accordo con il nazionale, con il collaboratore, con i comuni e non solo, per cui non è più solo il bancone per cui passaggi di proprietà, passaggi patenti ma ci sono tutta una serie di temi che fanno riferimento in modo particolare alla mobilità e tutto ciò che si muove sul territorio perché quando si parla di automobile tu parli a 360 gradi l'automobile è economia, è cultura, è turismo, è ambiente, direi che tocca tutto il mondo dei motori è uno dei temi più importanti dal punto di vista economico e non solo E state anche programmando nuovi appuntamenti? Sì, abbiamo il 24-25 di aprile il rally dell'Europa, ci auguriamo che tutto vada per il meglio l'anno scorso abbiamo deciso di non farlo per il motivo del Covid, abbiamo ritenuto che fosse corretto evitarlo ci auguriamo che quest'anno si possa fare perché credo che lo si farà sulle strade del Mondiale di quello che è stato il Mondiale, saranno due giorni, un 24-25, un sabato e una domenica e credo che sia una grande manifestazione perché l'automobile, come dicevo prima, tocca molti interessi e oltre agli appassionati tutto ciò che gli gira intorno dal punto di vista economico per cui anche questo nei temi, così come abbiamo altri nel campionato sociale abbiamo tutta una serie di iniziative che via e via si svolgono durante l'anno e nello stesso tempo stiamo cercando di creare collaborazioni anche con tante altre realtà economiche perché noi viviamo di quello che ci viene dato dagli nostri iscritti calcolando che il 60% di quello che ci viene dato dagli iscritti come tessere va al nazionale non neanche rimane moltissimo, però nonostante questo stiamo pagando i debiti che abbiamo trovato e stiamo crescendo Ecco, per quanto riguarda invece la vita degli automobilisti il periodo della pandemia ha sicuramente un po' modificato le abitudini si è anche usato un po' meno l'automobile, sono cambiate anche alcune cose voi come ACI su questo fattore? Devo dire che noi come ACI dobbiamo renderci conto che la realtà è diversa, è cambiata la situazione è oggettivamente complicata dal punto di vista economico per tutti perché la pandemia sicuramente ci sta creando grandi problemi ci auguriamo che questa situazione possa migliorare siamo in Valle Seriana, quella che ha avuto la legnata più grossa perché tra l'alzano e tutte le realtà e sono quelli che hanno pagato di più in termini di Covid noi ci auguriamo che si possa riprendere perché credo che sia fondamentale nello stesso tempo però credo che tutte le realtà del territorio debbano lavorare per fare in modo che le nostre comunità possano ritornare a camminare a me la cosa fa tremendamente paura e cosa succederà dopo marzo se scattano i licenziamenti, la crisi io penso quando a una famiglia viene a mancare uno stipendio penso alle famiglie, ai figli, alla scuola, alle case, ai mutui e credo che di fronte a cose di questo genere non si possa far finta di niente credo che tutti noi, ognuno dove deve cercare di lavorare per cercare di migliorare io credo che questo territorio bergamasco in modo particolare visto che si sta facendo un nuovo governo che spero e penso ha varie capacità di costruire perché purtroppo siamo rimasti molto molto fermi con la possibilità di investire quei famosi 300 miliardi che arrivano dalla comunità europea e non solo bisogna sicuramente fare un salto di qualità anche nel discorso infrastrutturale siamo in un'altra valle e credo che, vista anche l'esperienza che ho avuto per parecchi anni a livello istituzionale credo che noi dobbiamo migliorare e continuare sulla strada su cui ci eravamo mossi fatta la tangenziale di Clusù bisognava fare la tangenziale di Lea Puddenossa lì dove c'è la pesa cioè noi dobbiamo superare questo incrocio che è un problema grosso perché? perché il discorso viabilità ha un impatto potentissimo sull'economia che vuol dire le attività delle aziende che vuol dire il turismo in modo particolare per l'alta valle il discorso invernale, estivo e allora c'era un progetto abbozzato che già si ipotizzava che era quello del superamento da Clusone giù a Ponte Nossa in fondo a Ponte Nossa che da una parte, erano due le ipotesi una più verso Ponte Nossa e una più giù quella più giù ti dava la possibilità di superare anche il problema per la Alda e Ries cioè in poche parole queste sono le opere, una delle opere su cui potrebbe muoversi perché è fondamentale e se non si fa adesso che ci sono questi finanziamenti e devi cercare di entrarci quando è che si farà? così come c'è il discorso di Cereteo, che è pure importante ma voglio dire, questi due momenti ma io poi dico un'altra cosa perché la viabilità, la mobilità è fondamentale una volta esisteva il treno fino in quel di Clusone credo di poter dire con molta tranquillità visto che sono uno degli artefici che ha portato il trenino in quel di Albino che bisognerebbe studiare il progetto fino a Clusone è fondamentale perché col tempo è fondamentale creare le condizioni perché queste cose si possono affrontare io quando ho deciso se facevamo il tram delle valli ho pensato che se non si riusciva e non aveva fortuna in Valle Seriana sicuramente non avrebbe avuto fortuna neanche nelle altre valli che sono direi più deboli anche se avevamo costruito ai tempi come provincia un disegno che voleva dire arrivare verso San Pellegrino in Val Brembana arrivare in Valle Seriana arrivare a Romano e Lombardia dopo l'aeroporto andare a Romano e Lombardia il discorso su Treviglio la ponte San Pietro no questo era il discorso strategico che era interno anche del piano territoriale cos'è il piano territoriale? è lo studio che guarda avanti nel futuro per cercare di individuare quelle che sono le strategie e le zone dove si può passare e tu queste cose qua le devi definire molti anni prima perché col tempo magari dei passaggi che oggi hai domani non li hai più perché sono modificati allora voglio dire questi sono i momenti su cui bisogna ragionare certo manca la provincia non esiste più la provincia che era il luogo di riferimento dove volente o nolente ci si trovava tutti si discuteva, si litigava però alla fine si trovavano anche direi delle soluzioni io credo che l'altro tema grosso era quello di riuscire a chiudere quello che era il progetto del grande compressore cistico del turismo in Valle Seriana che è uno di Valle Seriana e Valle Brembana i due momenti forti è ovvio che su questi temi quando tu cambi l'amministrazione dovrebbe riprendere a continuare se poi il problema invece è quello di cancellare tutto perché o no è bene che nessuno sappia nulla queste sono scelte che poi vedremo nel tempo a cosa ci hanno portato e ci portano la sua amministrazione provinciale quindi ora la coinvolgiamo più come ex presidente della provincia di Bergamo lasciamo da parte il ruolo di presidente dell'ACI la sua amministrazione provinciale ai tempi aveva sul tavolo diversi progetti con la scritta politiche di decentramento ma quando sono arrivato in provincia devo dire che quella sera che sono stato eletto in un momento sono i gradini della provincia e ho pensato ecco è voi perché avevo vinto la provincia ma tu vinci se poi riesci a essere a lavorare a costruire e devo dire che due obiettivi mi ero posto su dall'inizio uno tra i vari era quello di esserci a tempo pieno perché è fondamentale ecco perché gestire la provincia è più difficile che gestire un'azienda l'altro aspetto e due temi erano fondamentali la mobilità e il discorso della scuola l'istruzione la mobilità perché con la mobilità tu sposti le merci sposti le persone la scuola perché il livello scolastico è fondamentale per cui abbiamo costruito questo disegno strategico dal punto di vista della viabilità che si è via e via poi sviluppato in tutti i settori della provincia di Bergo compreso il discorso nella bassa dove nel discorso dalla Brebemi dove noi abbiamo quando la Camera di Commercio ci chiede rispetto appunto all'obiettivo che era quello di fare la Brebemi che vuol dire Milano-Treviglio-Brescia o no in quell'operazione noi avevamo portato a casa risorse per circa 200 milioni di euro per fare le tangenziali rispetto ai comuni direi della bassa così come avevamo ripreso velocemente quello che era il problema della grande viabilità sul territorio mi ricordo che per quanto riguarda la Val Seriana c'era il famoso problema della strada che nel monte del discorso che si esce poi a Nembro no dell'autostrada via via e c'eravamo posti questo di far camminare questa struttura visto che era ferma da parecchi anni così come si è fatto nell'Iso come si è fatto direi in altre realtà in Val Seriana in Val Brembana e non solo anche nella Rava devo dire che il discorso della mobilità era ed è sempre di più un tema fondamentale per quanto riguarda lo sviluppo della comunità oggi più di ieri devo dire che uno dei problemi grossi che abbiamo di fronte è quello che sta succedendo nella bassa bergamasca con i grandi con i grandi gruppi per quanto riguarda la logistica cosa sta succedendo che queste grandi realtà che stanno costruendo e hanno costruito e stanno costruendo nei paesi della bassa delle dimensioni grandissime spazi dove mettere delle merci finiranno per ammazzare quelle che sono le realtà dei nostri territori perché i prodotti spesso volentieri non arrivano dalle nostre realtà ma arrivano da fuori allora il problema è che la mobilità è fondamentale per permettere alle nostre aziende di poter competere in termini di mobilità sui territori e nella produzione di ciò che serve a delle comunità l'altro aspetto importante è il discorso della scuola quando sono arrivato io avendo fatto anche l'assessore prima con il professor Galizzi uno dei temi su cui si ragionava i tempi era che era importante poter decentrare sul territorio le scuole medie superiori portare le grandi scuole superiori ovunque sul territorio in modo che i nostri ragazzi non dovessero alzarsi alle 6 della mattina per andare a scuola ma l'avevano vicino devo dire che ho avuto la fortuna di portare a casa delle risorse siamo stati impegnati a portare a casa parecchie risorse tanto è vero che abbiamo impegnato in quegli anni circa 120 milioni di euro per aggiornare potenziare quelle che sono state le scuole superiori compresi nuovi tipi di scuole ovunque mi ricordo che in Valseriana il potenziamento del Clusù del Gasaniga e via via tutto cosa ha portato questo un aumento della partecipazione scolastica per cui eravamo sotto media regionale e nazionale e siamo direi abbiamo recuperato quel gap io credo che queste state si debbano percorrere così come in questa nostra realtà in modo particolare della montagna bergamasca il discorso del Torino è un fatto fondamentale lo è attraverso il discorso invernale sui grandi comprensori se mi permette una battuta dovrei dire che avesse avuto ancora un anno stanno maturando un progetto insieme con delle banche insieme con i vari mondi purtroppo poi finiscono i cicli per cui però questo sono i temi su cui bisogna muoversi per permettere alla nostra gente di poter continuare a vivere in queste nostre realtà perché quando la viabilità non c'è quando per poter arrivare a Bergamo si impiegano delle ore non c'è l'altro problema che devo dire mi sta inquietando un po' lo dico un po' da presidente dell'ACI ma lo dico anche se permetti da ex presidente a provincia perché non è che posso non avere gli occhi i fetti del salam vedo che quello che sta succedendo ultimamente avviene intorno a Bergamo dove ho visto anche Bergamo è stata colpita dal Covid come l'è stata in particolare la Valseriana però ho visto che le risorse arrivano su Bergamo e non sono arrivate in altre realtà così come si sta pensando per quanto riguarda questo discorso di prospettiva è vero che c'è l'ipotesi quanti anni ci vorranno non lo so quella di portare il tram all'aeroporto anche se da lì dovrebbe arrivare a Romano in modo particolare il tram così come il discorso di portavilla dal me che è un fatto importante ma c'è il discorso delle scuole cioè in poche parole sto vedendo che lo sviluppo dei prossimi cinque anni è ragionato intorno a Bergamo e non sul territorio senza nulla a togliere a Bergamo che siamo tutti affezionati a cui vogliamo bene Bergamo è un decimo della realtà bergamasca un milione e centocinquanta un milione e duecentomila abitanti la provincia di Bergamo Bergamo ha 150 e 120 mila abitanti anzi è in decresce di allora non è pensabile che la realtà il 10% sia quello che comanda su tutto il territorio e lo sviluppo noi abbiamo bisogno di tenere viva le nostre montagne ovunque il territorio bergamasco e su questi temi occorre sviluppare un dibattito io mi rendo conto che la provincia l'è cambiata però la provincia era non può che essere ancora un momento di dibattito perché la provincia rappresenta un'intera comunità non è che adesso perché la provincia è più come prima non ci sia più bergamaschi siamo bergamaschi come prima siamo impegnati a 360 gradi e io credo che questo sia fondamentale per guardare al futuro della nostra comunità che è una comunità importante fatta di gente generosa e di grande ingegnosità e di grandi lavoratori intelligenza lavora intelligenza lavorare volontari questa realtà bergamasca noi non possiamo perdere questo patrimonio che è il patrimonio di tutti e da sempre nella nostra comunità che la nostra comunità mi abbia è di triangolio